Questo video è in collaborazione con Kiforgitalia, Grande Inverno e Fantasiastore.it dove, se inserirete i codici riportati in descrizione, riceverete il 5% di sconto. Signori, ben ritrovati in questo terzo appuntamento del Chimech. In questa puntata vedremo fronteggiarsi Alessio con il suo Oli Scattante, tecnocrate del parco con casate Brobnar, Dis e Ombre, e Adriano con il suo Felix Omen, chierico di cartone fedele. con casate Marte, Sanctum e Ombre. Buona visione! Ah, un da beneficio. Gio 2 Gio 2 Gio 2 Gio 2 Gio 2 Gio 3 Gio 3 L'altra Che classico. Ombre Mano strisciata Mano spettrale vai aspetta che lo metti 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 Anzi no, bis. Ma io posso perdere contro uno che mi metto a proteggere i deboli su Carlo e il fantasma? Infatti l'ho pensata pure io. Ha dato provocazioni a uno. Bellissimo. Bellissimo. Tutta tecnica. Cioè c'è un dodger grosso come porta Napoli a Carlo e il fantasma. Non c'è. No, io non ci posso perdere. Che poi è un grande muro, cioè voglio dire. Uno, uno, uno. Ripristino. Ovviamente ci raccomando anche. Ti faccio sparire con chi è con lui. L'archivia, giusto? Esatto. Mi ecco. Giusto. E... Qui ci vai? In che senso? Ah, via. Allora, trucco della civetta. No, aspetta, aspetta. Ho giocato un artefatto, rubavo pure uno. Vedi a che serve sprovocazione, Marco? Cinque. 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 Passo sto in check. Alto, l'abbiamo fatta. Ah, in check. Grazie. Quindi quella è una viparo. Vado di mano. Oh, non regge mai un turno il pesce. Non regge mai un turno. Non ha mai retto un turno. È bellissimo. No, no, no. No, no. No, no. Pack up. Uno. Ci raccolgo. Due, tre, tre. Uno. E qui, a chi? E qui. E qui. Questa. E qui. E qui. Passo. Corgio. Cinque, sei. Chiaro Brogna. Mi faccio fermo quattro occhi. Mi faccio rovellando. Se hai i logos ti ruba due. Però non ce l'hai. Mi faccio un'altra porzione di due. Mi faccio un soffeggiare i corpi. Mi faccio un pugno qua. Quindi. Danni. Una. Una per saccheggiare i corpi. E una per il pugno. Mi metti un forziere di guerra. Ogni volta che una creatura animica viene distrutta, ho ottengo un'altra. Con lui. Sì, quello è finito. Ma lo c'è l'unione. Ok. Vedete che serve provazione. Allora dipicchio lui. Faccio male. No, no. Scusa lui. Il fuciliero è stato peggio, no? Faccio male. E ottengo una perché ho una straccheggiare natura. Spiglio di corno. Quattro, no. Un po'. E metto due aprile. Quattro. 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 Buongiorno. C'è questa, torna in mare Kropna, vabbè non vi gioco, passo e sono in check un attimo, se combatto comunque l'eslusione però ti rubo uno si è un 5-5 vuol dire che sia questo vuol dire che adesso a me se ne uccidi uno vai in 100 dichiaro grob doppio forse di guerra quindi quando spacco un po' due percussionista percussionista sul percussionista sul uno un po' cilievi due la bestia la bestia sul 4 4 danni ottengo altre due 4 qua sui sono in centro io poso una trampogliere ombre questo troppo da provare di bristino un po' un po' un po' un po' una cosa plastica un po' 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 Allora, è tanto ricco. Allora, è tanto ricco. Allora, è rimasto scelto. Sì. Allora, c'è. Allora. Allora. Allora, questo ci è nel momento. Allora. Allora. 3. Vado. Uno. Ripop. Allora. Un figo, un danno. Allora, l'altro. Allora, io richiaro dis, faccio spezzare le chiavi, visto che ho forgiato una chiave il turno prima, ti spezza una chiave e ti riprendi il turno, e poi questa non la metti per lui, danza del destino, dico 1, sono tutte le curature con forza pari a 1, la chiave e la tiratura 3, cosa abbastanza inutile, questo e questo, e passo l'elemento. Grazie. Grazie. Se questa non era nerfata, se questa non era nerfata, era vinta.